Irico oggi la tappa regina della corsa Sì, oggi l'arrivo sul Monte Grappa, la salita più impegnativa che c'è qua all'Adriatica Ionica Penso che siamo strutturati bene per questa tappa, abbiamo dei corridori in forma come Natu o Cepeda che escono dal Giro d'Italia, daremo il massimo Oggi una corsa dura ma a differenza dell'Appennino un'occasione o si vince o si perde Non ci sono tante salite, ce n'è una, si decide tutto lì Sì, oggi è la classica tappa one shot, quindi hai una cartuccia da sparare ed è tutta sul Monte Grappa e si cercherà di spararla bene, no? Grazie